I miei nomi erano due, quello di Fabio Porreca e quello di Pippo Cavaliere, ed erano due nomi che potevano essere di sintesi e di garanzia anche per un rapporto che fonda valori su valori anche molto articolati. Fabio Porreca ha dato la sua disponibilità a candidarsi nei giorni scorsi, salvo poi avere anche qualche ripensamento. Credo che questo sia segno di grande maturità e responsabilità. Il presidente della Camera di Commercio ha generosamente posto il suo nome tra quelli che era possibile scegliere ed ha anche con la stessa generosità e intelligenza approfondito le tematiche di governo che dovremmo affrontare. Oggi c'è l'opportunità di chiudere anche eventualmente sul nome di Pippo Cavaliere, ma comunque con l'intenzione di proporre nomi di questo profilo, di questa levatura. Per me le primarie sono assolutamente indifferenti, non c'è l'esigenza di sapere chi dovrà essere incoronato dalle primarie. Credo che naturalmente sarebbe utile confrontarsi con il sindaco uscente, che ovviamente si è sottoposto alle primarie in maniera anche un po' anomala. Il sindaco è il riferimento per quanto mi riguarda del centrodestra, è interlocutore istituzionale per noi che siamo in regione ed è quello che vorremmo sfidare proprio perché è con lui che dovremo confrontarci sulle dinamiche della città. Alcuni recitano la parte di chi è passante come se fosse per caso o occasionalmente in contesa in questo momento, salvo dopo aver per cinque anni esercitato ruoli anche importanti. Insomma è un po' ipocrita questo atteggiamento.